Di Claudio Bozza in cima al Senato i due leader ridicano ciao dopo settimane di bordi. Quindi firmano il patto per un elenco che include tutti i riformisti alle elezioni del 2024 l'allora premier Matteo Renzi al Quirinale mentre Carlo Calenda giura come ministro dello sviluppo economico il 10 maggio 2016 l'atteggiamento, come al solito audace, del primo e il più posto del secondo, le cui urla, tuttavia, hanno fatto tremare le pareti il giorno del strappo di Renzi. Arrivarono al porto del Burrone. Quindi, nella stanza di Palazzo Carpegni, firmarono un fuoco cessato per una semplice questione di reciproco interesse. In ordine non rischiare scomparire. Ridono persino ciao, dopo settimane randellate. Entrambe hanno capito che il divorzio dei gruppi parlamentari di azioni in Italia viva, con gli europei e con le porte, non è conveniente per nessuno. Al Senato alcuni aspetta di cross, tra i due leader, ma alla fine è tregua. La metafora della Friends Force Force si è rivelata anche benevolo per Matteo Renzi e Carlo Calenda. Perché, entrambi hanno rivelato la loro vera natura sono come l'acqua e il petrolio. Impossibile a miscolare. Eppure ci avevo creduto Calenda confessata e intervistata dal Corriere. Ma la colpa, in questa soppopera politica, chi è? Cencio dice male di Reg, dice un vecchio proverbio sulla riva o l'Arno. Evocarelo è un ex leale di Renzi, che ha conosciuto entrambi bene all'epoca di Palazzo Chigi. Un proverbio per dire che la colpa è entrambi con loro. Perché i rispettivi personaggi hanno tratti inconciliabili ego in primo luogo. Quando Renzi ha governato e Calenda era il suo ministro per lo sviluppo, erano all'ordine del giorno. Ma c'era una stima e il premier riconosciuto competenza Carlo nei delicati dossier che gestivano grandi aziende. Quindi, la stima, è andata a essere benedetta un po' di tempo dopo aver deciso di mettere insieme una compagnia. Renzi, da Machiavelli 2.0 che cos'è? Durante la campagna elettorale e nei primi mesi post elezioni hanno ribadito come un mantra VME. De mantra libera e Calenda, faccio un passo da parte. Ma dei risultati desiderati, finora, nimmino l'ombra. E poi Renzi ha fatto Renzi. Sloli, ha iniziato a lavorare dietro le quinte, con un piano ben definito paralizzando il suo alleato. Prima di aver strappato il senatore Enrico Borghi dal partito democratico. Una mossa chiave, perché ha permesso al leader Italia Viva di raggiungere 6-6, o il numero minimo per costituire un gruppo autonomo a Palazzo Madama in caso caso divorzio dei gruppi parlamentari, costringendo i quattro senatori dell'azione al gruppo misto. Solo ieri, con una lettera aperta contro il leader, il board of action di Rimini si è anche diviso in massa. Giorni di pace è ora previsto. Ma quanto durerà?